In teoria e in parte anche in pratica su questo aspetto funziona il principio della sussediarietà, cioè ogni Stato dovrebbe essere in grado di dire che cosa vuol dire culturale o meno. E nella pratica è vero in parte e per l'altra parte è un po' meno vero perché di fatto poi questi criteri di culturalità vanno in qualche modo concordati con la Commissione che vigila più che altro sulla razionalità di quelli che sono i principi che diversi Stati indicano come discriminanti del carattere di culturalità. Rispetto a questo principio, quindi considerando che di fatto potranno usufruire degli incentivi fiscali soltanto i prodotti culturali, la norma prevede sostanzialmente una serie di, perlomeno quattro tipologie di prodotti, le possiamo vedere nel prossimo lucido, che sono appunto, prima ancora di andare sui singoli segmenti, diciamo che noi abbiamo cercato di evitare al massimo di creare dei doppi binari, cioè un binario che è quello della legislazione nazionale e poi un binario che è quello del beneficio fiscale e che è sempre diciamo una legislazione nazionale ma che appunto poi essendo aiuto di Stato necessita di un'autorizzazione a livello comunitario. Quindi abbiamo in qualche modo cercato di sovrapporci il più possibile su quello che è lo stato dell'arte in questo momento. Dunque noi abbiamo comunque i film di nazionalità italiana, abbiamo e rimangono comunque i film di interesse culturale, abbiamo i film di espressione di lingua originale italiana e poi abbiamo i film stranieri. Che cosa vuol dire? Vuol dire che di fatto rimangono i prodotti che conosciamo. Questi prodotti però per la commissione necessitavano di una caratterizzazione di culturalità. Quindi questi prodotti saranno soggetti a dei test di culturalità. Film di nazionalità italiana e di espressione di lingua originale italiana da un lato avranno un proprio test di culturalità, i film di interesse culturale avranno un test di culturalità e i film stranieri avranno un test di culturalità. Dunque questa è una norma che viaggia su film nazionali e non, ma in ogni caso viaggia solo ed esclusivamente sui film culturali. Esistono poi altre due categorie di prodotti che però sono poi delle generazioni spontanee dei precedenti e che c'è necessità di spiegare perché. Voi sapete che gli aiuti di Stato hanno un limite di intensità. Cioè la commissione dice che, in questo caso per il prodotto cinematografico, il prodotto cinematografico può essere sostenuto per un massimo del 50% del budget di produzione. E' evidente che questo limite vale non solo per gli incentivi fiscali, ma per tutti gli aiuti statali. Quindi tutti gli aiuti statali che vengono dirottati su un'opera cinematografica non possono superare il 50% del budget. Questo è il limite soglia che mette la comunità, ma concede anche delle deroghe. In questo caso concede delle deroghe per due particolari categorie di film, sono i film difficili e i film a basso budget. E per queste categorie di film l'Italia ha chiesto una deroga che sale, che innalza il limite del 50% all'80% del budget di produzione. Ora, sui film a basso budget ci sono delle regole molto stringenti, nel senso che c'è un meccanismo di calcolo, per cui di fatto lì non abbiamo grandi problemi, se non quelli di andare a lavorare sui dati e di seguire queste procedure. Però, ecco, considerate che i film a basso budget possono oscillare intorno a una forchetta tra i 2 e i 3 milioni di euro, ma direi un valore che è intermedio sostanzialmente, più o meno. Per i film difficili c'è da lavorare e capire quali possono essere i film difficili. In questo caso vengono chiaramente immediate alcune categorie di film, come possono essere le opere prime e le opere seconde, però considerate bene che poi nella regolamentazione occorre stare molto attenti a non autolimitarsi, perché se poi si vanno a dare delle casistiche molto precise si rischia appunto di restringere eccessivamente il vaccino dei film che può usufruire di questa deroga al 50%. Invece la nostra intenzione è quella di provare a espandere il più possibile, sempre nel rispetto dei criteri di culturalità. Importante ovviamente è questo passaggio nel caso in cui si vadano a cumulare i benefici fiscali con i sostegni già esistenti, perché evidentemente il tax credit, lo vediamo magari più tardi, non supererà mai le soglie di intensità di aiuto, quindi è strutturato in maniera tale da non essere mai in violazione delle norme comunitarie. Il caso di cumulo è un caso ovviamente possibile per tutti i film, almeno di interesse culturale, che possono accedere quindi al sostegno già esistente, oltre al tax credit. Ricordo che la norma stabilisce che tutte le risorse che vengono date al produttore grazie al tax credit vengono considerate risorse proprie del produttore ai fini dei ragionamenti che vengono fatti per gli altri sostegni. Quindi è una norma che tende a dire al produttore, lavora per trovare co-investitori, perché insieme a te, cioè quelle risorse vengono considerate tue risorse ai fini del sostegno già esistente. Allora, sull'indicazione di cercare di andare più veloce, proviamo a riassumere delle cose che sono di una semplicità sconcertante quando si sono capite, ma per spiegarle diventa un po' complicato. Allora, passiamo alla slide successiva che ci dice chi sono i beneficiari. Come vi dicevo prima, i beneficiari sono sostanzialmente la catena cinematografica, questa è la vera importante novità del credito d'imposta italiano, cioè non è un credito d'imposta che si rivolge soltanto al produttore, ma si rivolge al produttore, al distributore, all'esercizio, alle produzioni esecutive, alle industrie tecniche e per altro verso agli investitori esterni, persone giuridiche chiaramente soggettive, se persone fisiche e titolari del reddito di impresa. imprese sia italiane che straniere, possiamo passare alla prossima slide, imprese sia italiane che straniere, ma che abbiano quantomeno una stabile organizzazione in Italia. Allora, vediamo nello specifico quali sono le misure. Per ogni tipo di beneficiario esiste una misura diversa, con differenti aliquote di credito d'imposta, per quanto riguarda il tax credit, con una misura leggermente differente tra tax shelter esterno e interno per la detestazione degli utili. Il credito d'imposta agli investitori esterni sull'investimento cinematografico è pari al 40% dell'apporto, mentre invece per la filiera vedete che abbiamo aliquote diverse, se la produzione ha un'aliquota del 15% del costo di produzione, la distribuzione ha un'ugevolazione fiscale per le spese di distribuzione che ha aliquote differenti a secondo che il film sia di nazionalità italiano di interesse culturale, 10 o 15%, ma ha anche un beneficio fiscale legato all'investimento nella produzione, cioè la distribuzione può effettuare apporti alla produzione, così pure l'esercizio, entrambi lo possono fare soltanto per i film di interesse culturale, è chiaro che la motivazione è cercare di andare a creare un network di filiera per agevolare le produzioni indipendenti indirettamente, agevolando il prodotto molto culturale nella canalizzazione su una distribuzione e poi evidentemente nella tenuta in sala. Questo è uno dei caratteri della norma che non è mai stata sperimentata prima da nessuna legislazione straniera e chiaramente la commissione ha impiegato più tempo per valutarla. Poi ancora l'esercizio, ne avete già parlato prima, ha una misura specifica per l'introduzione degli impianti digitali, il 30% per le spese dell'introduzione del digitale e poi c'è una misura che è appunto quella rivolta in particolare alle produzioni esecutive delle industrie tecniche, cioè noi abbiamo deciso di lavorare su tutto il prodotto culturale anche sui film stranieri, nell'ipotesi appunto che questi non siano prodotti da imprese italiane e quindi diciamo nell'ipotesi in cui le imprese italiane lavorino sostanzialmente da produzioni esecutive. In questo caso la liquida è pari al 25% delle spese relative alla parte dei film girato in Italia oppure a tutto il film se tutto il film viene prodotto in Italia. Ci sono dei vincoli, passerei alla slide successiva, per far percepire che non è poi tutto così de plano per l'utilizzo del credito e vado soltanto, poi su quello esterno magari, riprenderà già Marco la questione, magari vado su quello del produttore e per spiegare quali possono essere le tipologie di vincoli, allora ci sono evidentemente dei massimali all'utilizzo del credito d'imposta e sono dei massimali annui e sono riferiti evidentemente ai singoli beneficiari, quindi una singola società di produzione o una singola società di distribuzione o un singolo esercizio ha un proprio limite anno, un plafon anno massimo spendibile di credito d'imposta, la ragione evidentemente è quella che abbiamo dovuto studiare questo in relazione a quello che era l'impatto sull'erario dello Stato e chiaramente questo vincolo può essere speso e consumato tutto su una singola opera oppure distribuito su una serie di produzioni.